Ciao Sephora Beauty Community, io sono Giulia e oggi sono qui per mostrarvi come realizzare una base Gloss Skin e quindi luminoso e levigato. Come primo prodotto utilizzo il Close Up Futuristic Foundation nella tonalità M50 e lo stendo su tutto il viso e questo fondo ha un finish matte luminoso, quindi sarà la base per il nostro trucco Gloss Skin. Procedo poi ad utilizzare il correttore Close Up Pencealer nella tonalità Golden Beige e questo mi aiuterà ad aggiungere coprenza ma anche un effetto illuminante sul viso utilizzando una tonalità leggermente più chiara. La stendo con la nostra Flawless Makeup Sponge che è una spugnetta con un taglio preciso che ci aiuterà ad arrivare in tutti gli angoli del viso. Utilizzo poi il Close Up Baking and Setting Powder e questa cipria la utilizzerò per utilizzare una tecnica Soft Baking quindi per non rendere la zona troppo secca ma comunque settarla. Poi utilizzerò la nostra cipria compatta e con questo setterò il resto del viso e questa formula è pure levigante quindi mi aiuterà anche a levigare il viso però comunque non togliere totalmente la luminosità che abbiamo creato fino ad ora. Utilizzo poi lo Skin Bronzing Powder nella colorazione June che è questo colore caldo ma radioso molto bello e questo mi scolpirà il viso ma comunque lasciando un effetto radioso. Procedo poi con il blush nella colorazione Lola che fa parte sempre di Skin Glazing e quindi appunto ha questo finish super luminoso. Applico poi l'illuminante Amnesia e questo sarà proprio la ciliegina sulla torta per rendere la nostra pelle completamente specchiata. Utilizzo poi il bronzer che abbiamo usato in precedenza anche nella piega dell'occhio per dare un po' di dimensione ma anche luminosità allo sguardo. Procedo poi ad utilizzare il blush che abbiamo usato in precedenza e questo mi darà un tocco di colore ma anche di luminosità e poi come ultimo tocco l'illuminante all'angolo interno dell'occhio. Ecco qui il look finito, spero davvero vi sia piaciuto, con questo vi mando un bacio grandissimo, ciao a tutti!